Ben 12 associazioni di categoria, pa anche rappresentanti sindacali per dire ora o mai più. Rivolta a una situazione che ormai non ha più margini, nel senso che la situazione delle aziende è veramente al collasso. I dati della Camera di Commercio che i giorni fa sono stati pubblicati sui giornali parlano di migliaia di cancellazioni di aziende. Negli ultimi anni c'è stata una vera e propria moria di aziende che hanno visto di fatto un completo collasso del sistema economico pescarese. Una corda che si sta stuccando ieri l'ennesimo suicidio. Ma è indubbio che sia sotto gli occhi di tutti una burocrazia che sta ammazzando le aziende, che porta a queste vere e proprie tragedie. Un credito che ormai è legato non si sa più a quali parametri perché le banche di fatto, credo a livello nazionale, sia un tema sotto gli occhi di tutti. Non erguano più. Ha una conflittualità del sistema che non siamo più in grado di reggere. Ecco, essere in Europa significa avere tutte le stesse regole. Non è possibile che negli altri paesi il sistema di quei paesi risponda immediatamente alle esigenze delle imprese, alle richieste delle imprese, agli investimenti e all'iniziativa delle imprese. E nel nostro paese oggi si viva una situazione surreale dove l'impresa di fatto non riesce più ad operare. Stadio del Mare, nave di Cascella, ore 21, le imprese ci saranno tutte, anche la città dovrà stringersi a questo appello. Perché è importante esserci, è importante far capire la situazione che si sta vivendo. Non le nascondo, non le nascondo. Lo scoramento di molte aziende, lo scoramento che dicono, alcuni ci dicono, ma ormai che vengo più a fare. E questo veramente lascia un magone dentro, una tristezza dentro. Ribadisco, non è più possibile vivere in un paese che di fatto, mi dispiace dirlo, mi dispiace veramente dirlo, è contro il sistema delle imprese.